bentornati in un nuovo video decluttering eccoci tornati in un nuovo video decluttering e questo è il decluttering post estate quindi vi farò vedere quali sono i capi di abbigliamento che ho deciso di eliminare alcuni anche un po a malincuore un po pensierosa dopo l'estate non so ogni quanto frequentemente fate anche voi decluttering ma trovo che sia un ottimo modo per essere più consapevoli di quello che abbiamo all'interno dell'armadio e soprattutto per non ricommettere magari le volte dopo alcuni errori durante lo shopping come acquistare dei capi come questo che magari erano molto belli ma poco pratici da utilizzare o magari se avevano poche occasioni d'uso questo infatti l'ho utilizzato veramente poche volte questa maglia mi dispiace doverla eliminare ce l'ho da tanto tempo e come se fosse nuova è davvero molto bella con la parte sopra fatta in pizzo le maniche fatte in pizzo la stoffa di questo bianco veramente trasparente è molto molto bella però purtroppo per me è un po' corta io sono un po freddolosa quindi ho deciso di metterla in vendita su vinted quindi la trovate nel mio profilo come questo vestitino qui carinissimo comprato da H&M bianco con tutti i bottoncini che si allacciano davanti e traforato le maniche sono anche un pochettino sbuffo sono veramente molto molto carine altre cose che ho deciso di eliminare e delle quali sono sicura di non ricadere in futuro in acquisti sbagliati sono maglie fatte di questo tessuto che le trovo veramente molto scomode perché non fanno respirare la pelle fanno molto caldo un altro capo che devo eliminare è questa canotta gioiello che mi piace tantissimo però l'ho utilizzata veramente pochissime volte non è un colore che mi si ho preferito eliminarla come ho preferito eliminare anche questa gonna qui anche questa la trovate sul mio profilo vinted e ci ho pensato tanto se eliminarla oppure no però alla fine mi sono resa conto di averla utilizzata veramente pochissime volte come quest'altra gonna veramente bellissima in tulle con questa sottoveste anche veramente fantastica meravigliosa però ho pensato che magari potesse essere più utile e più sfruttata da qualcun altro anziché tenerla nell'armadio a prendere polvere tra virgolette ecco questa è una parte dei vestiti che ho deciso di scartare alcuni di questi li donerò a chi ne ha bisogno e li riporrò all'interno delle campane che sono disposte per la città mentre altre cose come vi ho detto le metterò in vendita su vinted sono sempre molto soddisfatta quando faccio decluttering perché ancora una volta ho occasione di riflettere su quante volte si fanno degli acquisti sbagliati e niente vi faccio vedere anche due costumini che ho deciso di eliminare questo ormai era troppo largo mi scendeva sempre e un altro era rovinato e con queste immagini vi saluto e vi ringrazio per aver guardato questo nuovo video e ci vediamo sempre qua con nuovi contenuti ciao